Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Volevo farvi vedere quello che ho preso al Romix Ho preso tre cosucce come avevo detto nel video precedente Partiamo con quello che ho preso Ho preso prima di tutto questo polipetto Praticamente fa parte di questa storia giapponese Che sono appunto quei polipetti che messi sulla scrivania in tempo di esami Ecco dovrebbero portare fortuna Ci affidiamo al polipetto per i nostri esami Non solo appunto si può poggiare sulla scrivania eccetera Ma può anche essere portato Attaccato al cellulare la tipa mi ha detto che si dovrebbe anche illuminare Perché c'è anche tipo la linguetta che si leva E l'avrò pagato non me lo ricordo tipo 5 euro Secondo questo che ho fatto Questo fantastico braccialetto Che è questo qui Uno stand Di questa ragazza che faceva cose assurde ve lo giuro Questo praticamente è il braccialetto di Frozen E vi dico anche chi è Perché merita Merita tantissimo Si chiama Scarlett Blake Ward E magari lascerò il link nell'info box Il braccialetto l'ho pagato 18 euro Dopo queste due cose ho preso questa terza Che è bellissimo Perché? Perché ve lo faccio vedere? Anche se è tutto spiegazzato Tutto insomma lo devo lavare, lo devo stirare Ed è Ed è Ed è Il cosplay di Sailor Moon Perché è questo qui? Eh? Sì Sì E niente ragazzi È stato il mio piccolo video unboxing Quindi mi raccomando iscrivetevi Mettete mi piace E commentate se vi va Io vi mando un bacio E ci vediamo al prossimo video Ciao E volevo parlarvi anche di quello Grazie Grazie ambulanza Grazie Vai così Dove sei che continui No